Perché è incazzato? Ma è incazzato perché c'è la pista ciclabile che viene chiusa spesso per varie manifestazioni. Già è piccola e poi appunto succede questo. Secondo lei Napoli è una città che si presta al ciclismo? Sì, sì, se ci fossero più attenzioni certamente è possibile. Se dovesse parlare direttamente col sindaco cosa gli chiederebbe? Nulla. Va bene così, grazie. Grazie.